In Val di Chiana si respira aria di Festival delle Musiche. È stata infatti presentata la ventottesima edizione del Festival Itinerante della Val di Chiana Retina che accenderà i riflettori sulle declinazioni della musica e non solo, in un costante dialogo con il territorio e le sue particolarità culturali ed artistiche. Che sarà veramente in tutti i luoghi e in tutte le piccole frazioni. Un festival che ha come Phil Rouge il cantautorato presente, passato e futuro e dove la festa, il divertimento e anche un po' di concentrazione, di pensiero, di cervello attivo è fondamentale. Il progetto, firmato da Officine della Cultura, vede rinnovarsi della collaborazione con i sette comuni della vallata Monte San Savino, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano, Lucignano e Marciano della Chiana. Cominciamo dentro il grande Festival delle Colline Etrusche con Arezzo il 18 luglio con Stefano Massini e l'Orchestra Multietnica, l'omaggio a Gaber. Però continuerà con Marciano della Chiana, Paolo Benveniù, con Tommaso Nuovi con un omaggio a Lucio Dalla, Castiglion Fiorentino, per poi passare per Monte San Savino con un omaggio speciale ai 50 anni di Ziggy Stardust, di David Bowie con la banda Bardot, l'Orchestra Multietnica, Andrea Chimenti, Paolo Benveniù, Imotus, Riff che è una cantatrice bolognese. Poi continueremo con vari omaggi, per esempio a Gabriella Ferri, a tutta la musica soprattutto italiana. Quindi siamo contenti di espanderci nel territorio e fare molta musica e molta varietà musicale. Il Festival tornerà dal 21 luglio al prossimo 10 agosto.